Oggi anche nella manifestazione di fare la cosa giusta, proprio a chi viene a trovarci in fiera attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative come QR Code, diamo la possibilità ai cittadini che vengono a trovarci al nostro stand di ricevere comunque in omaggio un ulteriore kit di sacchi per la raccolta dell'umido. Ovviamente dall'altra parte siamo anche tempestati da telefonate e da richieste in lumino verde di cittadini che vogliono partecipare, che vogliono sapere dove trovare questi sacchetti compostabili e adatti per Milano. Non c'è nessun panico, i sacchetti sono disponibili in tutti i più grandi supermercati e in tutte le catene nelle varie misure nel settore case igiene, ci sono i sacchetti, potete vedere tranquillamente anche il marchio Mater V sopra. In alternativa a questo, come vi dissevo prima, ci sono anche gli shopper.